Sì, quest'oggi siamo pronti per parlare di un appuntamento molto bello eh creato eh dalla scuola Don Milani Tempo Pieno e intanto saluto Sara, ciao Sara, ben trovata. Buongiorno. E poi introduciamo le nostre ospiti, le insegnanti Patrizia Padovani e Laura Sassetto. Buongiorno e buongiorno e buon lunedì, visto che oggi è l'inizio della settimana, buon rinizio a tutti. Eh sì. Tragico. Buongiorno anche da parte mia. Ciao Laura, buongiorno. Allora ritornano perché in verità le abbiamo già conosciute l'anno scorso, un percorso che è arrivato al terzo anno perché con il tempo pieno si fa questa eh come dire approfondimento chiamiamolo in questo modo eh di quello che ogni anno un argomento eh particolare originale poi diventa anche concatenato nel senso che da un anno all'altro prosegue e si sviluppa quest'anno siamo agli esploratori dell'infinitamente grande infinitamente piccolo che è stato un po' il filo conduttore del dell'annata scolastica. Esatto cioè non programmiamo prima non decide ma quello che accade ci fa ci suggerisce il lavoro il progetto per l'anno dopo. Ecco quest'anno l'argomento. Abbiamo finito guardando le stelle e quest'anno siamo partiti eh osservando il cielo quindi esploratori dell'infinitamente grande astronomia all'infinitamente piccolo biologia. E quindi un mondo meraviglioso e anche molto affascinante. I bambini ragazzi perché poi in verità siamo tra i sei anni e i dieci anni oltre no? Quindi in qualche modo eh come l'hanno presa e sono argomenti che affascinano immagini. Molto sono molto entusiasti e soprattutto è molto bello almeno per me che ho la prima eh vedere come i più grandi sono quasi da tutor perché loro non so quando dell'eclissi il venti marzo. Sì. E che c'è stata l'eclissi le classi più grandi erano state all'osservatorio astronomico di Asiago. Hanno portato gli occhialini adatti per guardare l'eclissi e quindi hanno fatto la lezione gli abbiamo aiutati in particolare la classe quarta con la maestra Sassetto e la maestra Alessandra Buonapersona hanno preparato una lezione e hanno spiegato benissimo l'eclissi i bambini erano tutti affascinati affascinati e poi fuori a gruppi di dieci a guardare l'eclissi. Che carini. Meraviglioso meraviglioso. Sì da noi funziona così c'è tutto uno uno scambio e i piccoli seguono i più grandi i grandi seguono i maestri. Che bello. Sono loro i nostri maestri in qualche volta. Eh diciamo abbiamo imparato da mie che parla del lavoro che uno può diventare come il maestro si sente un po' come il seminatore di mie che troverete nella mostra finale che Van Gogh è stato maestro di eh ha seguito insomma come il suo maestro è stato mie e nel seminatore si capisce proprio che il maestro è uno che semina no? E uno diventa maestro se segue a suo volto maestro. E questo molto bello. E certo. Allora parlando di questo appuntamento dicevamo sta diventando una una cosa che si ripete negli anni ha avuto grandi successi oggi sono stato l'anno scorso e devo dire davvero meraviglioso vedere questi ragazzi che poi durante la mostra spiegano tutto il lavoro e diventano come diceva appunto eh la maestra Padovani diventano in qualche modo loro le le guide a quello che succede quello che hanno fatto no? Sì loro saranno proprio le guide della mostra però volevo dirvi proprio un po' brevemente il lavoro fatto durante l'anno e è stato eccezionale sicuramente la visita all'osservatorio al planetario di Padova poi anche all'osservatorio astronomico di Asiago dove si sono proprio appassionati insomma a guardare eh l'universo e abbiamo anche studiato e seguito la sonda Rosetta sulla superficie della cometa dove è nato anche uno spettacolo a Natale e poi con l'aiuto di genitori abbiamo costruito una serra quindi abbiamo anche una serra in particolare seguita dalla maestra Merino Ordio e Zambon Patrizia della classe terza. Ecco la notizia che è spuntata la prima fragola oggi quindi è. Sì stamattina è spuntata la prima fragola. No ma abbiamo quindi siete bravi in verità insomma. Abbiamo potuto diciamo ammirare la magia del del piccolo seme che che nasce no? Che dà le piante e gli ortaggi abbiamo anche studiato e ha assaporato i primi prodotti del nostro territorio che saranno anche esposti nel giardino della mostra che sarà al palazzo Grassi. Poi abbiamo fatto gite all'orto botanico, alla fattoria, al bosco protetto, insomma tutto ci ha profondamente affascinato alla bellezza della natura perché i bambini si stupiscono e questa è la cosa più importante. La loro curiosità e il loro stupore. Cioè noi seguendo questo uno si apre, conosce e impara sempre di più. Diventa motore insomma di desiderio di conoscenza. Poi abbiamo chiesto anche esperti e abbiamo avuto esperti del CEA, il gruppo Pleiadi ad esempio con le prime abbiamo fatto tutto un laboratorio sui cinque sensi e poi blu scienza le quarte e le quinte, blu scienza e hanno studiato proprio con l'uso di stereomicroscopi che ingrandiscono molto e c'è stata proprio la possibilità di studiare e di osservare l'infinitamente piccolo. Eh sì. I semini, le foglie, fino alle uova di pesce, le arve di soglio, le cellule. Incredibile, è un lavoro lunghissimo, durato un anno e che adesso troverà un po' il suo compimento. So che ci sono tutta una serie di appuntamenti, Sara magari li ricordiamo insieme così? Sì esatto, si comincia già venerdì otto maggio alle ventuno presso l'auditorium, un incontro con il direttore della rivista scientifica eh professor Mario Gargantini e ehm che dal millenovecentonovantotto dirige eh MC Quadro. Giusto? Una rivista scientifica. Sì e poi quindi ci parlerà del. Non leggi MC Quadro tu la cosa. Vale. Allora lui ha fatto anche una mostra Explorer molto affascinante soprattutto per i ragazzi quindi ci sarà un piccolo video di esplorazione spaziale e sarà più una conferenza sull'astronomia. Ok e venerdì quindici maggio quindi una settimana dopo alle diciotto e trenta presso l'auditorium invece la dottoressa Ilaria Capua eh che è dirigente del dipartimento di scienze biomediche ehm di cosa ci parlerà? È una virologa? Sì. E politica anche italiana? Sì beh noi noi l'abbiamo invitata dal punto di vista scientifico perché lei in particolare insomma anche scoperto il come curare l'influenza aviaria. Sì esatto. Ok. E eh poi sabato sedici maggio dalle ore diciassette alle venti invece? Allora sia sabato sedici che domenica diciassette siamo a Palazzo Grassi dove i nostri alunni eh esporrà c'è l'esposizione di tutti gli elaborati che dovete venirle a vedere perché sono bellissimi quindi sicuro e loro i bambini presenteranno tutto quello l'esposizione di tutto quello che abbiamo fatto sì saranno loro le guide. Carinissime e il mercoledì tre giugno dalle ore quindici del pomeriggio una grande festa finale nei giardini della scuola Don Milani. Sì esatto. Ecco. Cosa ci avete riservato? Spilate, piantine, tutti ma mangeremo le fragole. Mangeremo le fragole che hanno coltivato. Sì sì poi abbiamo anche beh potrete fare anche un po' di microscopia perché il CEA che è a Palazzo Grassi ci ospita anche nella saletta quindi si può approfondire anche noi possiamo venire a capire un po' di più insomma. Farete esploratori anche voi. Anche noi. Torniamo tra pochi minuti con i nostri ospiti di oggi direttamente dalla Don Milani Tempopieno abbiamo con noi la maestra Patrizia Padovani e la maestra Laura Sassetto e tra poco. Just Glan con Hold My Hand a undici e ventitré ospiti quest'oggi dalla scuola Don Milani abbiamo le insegnanti Patrizia Padovani e Laura Sassetto che ci stanno raccontando quello che è stato un po' il lavoro che hanno svolto con il tempo pieno che arriverà un po' a compimento in queste ore e direi di sottolineare soprattutto due cose intanto l'appuntamento più vicino a noi quello con venerdì otto maggio alle ore ventuno presso l'auditorium il professor Gargantini allora invitiamo tutti quelli che volessero partecipare a venire appunto l'auditorium ingresso libero dico bene tutti. Parli tu Laura parli tu allora avviciniamo. Sì l'ingresso è libero per tutti e come target di età noi e i nostri relatori abbiamo chiesto di essere semplici e capibili comprensibili per tutti. Ecco quindi non saranno cose spiegate. Non sono per esperti anche perché anche noi stessi non siamo esperti per cui abbiamo chiesto di essere semplici e dalle elementari fino alle superiori è qualcosa di molto interessante anche perché astronomia è un po' anche il programma di terza media per cui anche i ragazzini delle medie possono venire tranquillamente. Ok quindi ricordatevi se niente questa data venerdì prossimo dalle ore ventuno all'auditorium con il professor Gargantini e poi già buttiamo un occhio a quello che succederà dicevamo con questa grande mostra che sta suscitando grande entusiasmo eh già l'anno scorso insomma io ci sono stato e devo dire che è stata bellissima e quindi non mancherò anche quest'anno anche perché c'è anche mia figlia quindi figurarsi posso se posso mancare insomma ecco cosa succederà quest'anno nella mostra? Eh allora io non posso dirvi tutto perché sarebbe come svelare il segreto a grandi linee. Ci faccio venire la voglia di venire insomma. Esatto la voglia di venire saranno dei pannelli delle rappresentazioni di tutto il lavoro e lo studio che abbiamo fatto quest'anno quindi nel piano terra tutta la parte astronomica archeo astronomia l'origine della terra il sistema solare le costellazioni tutto lo studio dell'universo mentre nella parte superiore sopra il primo piano avremo un video e avremo anche tutta la parte che riguarda la biologia quindi eh lo studio la cellula eccetera eccetera la nascita della vita poi abbiamo tutta la parte fuori del giardino in cui riproporremo appunto i semini e le piante che abbiamo coltivato l'esposizione e anche di opere d'arti diciamo perché non abbiamo perso la passione ecco per l'arte perché l'anno scorso era più eh a livello artistico da giotto agli impressionisti ma abbiamo continuato eh questa passione questo amore per cui mi è Van Gogh l'albero della vita di Klimt e le e gli studi di Leonardo insomma e anche i voli di Chagall i nostri bambini sono appassionati. Li fanno all'alimentare ragazzi ma anche le superiori hanno fatto sta roba. No ma voi guardate pensate uno dice sono piccoli invece no loro si appassionano e poi facendo laboratori teatro diventa una un'esperienza una cosa che gli rimane. Ancora più profondamente. E poi microscopia in fondo al CEA potrete anche voi eh vedere microscopia addirittura in le nostre le nostre colleghe di seconda e terza hanno partecipato a un concorso e sugli ortaggi le i del nostro territorio hanno anche preparato un balletto hip hop anche con Gianluca apprezzato. Addirittura. Ragazzi siete veramente multidisciplinari come dire. Il lavoro è così cioè è interdisciplinare. Interdisciplinare molto bene. Volevamo ringraziare comunque tutti siamo qui noi ma rappresentiamo tutte le nostre colleghe del tempo pieno dalla prima alla quinta. Le prime quest'anno sono due perché da quest'anno abbiamo iniziato con due classi. Volevamo anche ringraziare il nostro dirigente scolastico eh Sergio Ferroli che ci ha dato l'opportunità di esprimerci e di lavorare così insomma appassionatamente. Eh sì. Devo dire che la cosa bella che mi è sempre piaciuta anche l'anno scorso quando avete parlato è la grande coesione tra voi insegnanti. C'è fatto una bella squadra che consente di ottenere questi risultati. Che alle volte si tende a lavorare un po' per classe però poi ci richiamiamo sempre no? Perché i momenti di condivisione sono sempre i momenti più più belli e più grandi perché ognuno mette del suo e viene fuori una cosa più grande. Ecco. Come nel vostro progetto da zero alle stelle. Bene. E viva allora la scuola Don Milani grazie di essere stati con noi non mancate venerdì otto maggio dalle ore ventuno e ringraziamo anche tutti gli sponsor perché non sembra ma queste cose si fanno anche grazie alla collaborazione di come dire aziende private che credono eh meno male della cultura e dell'informazione dei più piccoli. Che hanno questa sensibilità sull'educazione molto importante. Ecco la maestra Laura. Laura che fa la sponsor girl prego. Ok. Intanto gli ringraziamo della fiducia che ci danno eh. Per cui ringraziamo il Banco San Marco e la Banca Carige, la Fondazione della Pesca, il la Banca del Credito Cooperativo di Piove di Sacco, Gallo Plastic, Marina del Sole, Pieviani Frutta e Istituto di Bellezza Grazia, B2 Termoidraulica, Centro di Bellezza Efebo, il dottor commercialista Achille Penzo ed infine Loreni Parucchieri. Bene. Grazie a loro e grazie naturalmente a voi che ci avete raccontato questa cosa. Un saluto ai nostri piccoli a tutti dalla prima alla quinta. Stanno ascoltando? Eh certo. Saluto Giulia. Ciao Giulia. Un salutone, un bacione.